Oh, devi combattere! Ignora il dolore! Ho sempre pensato che il mondo avesse bisogno di gente come me! Detto falso! Sto andando troppo piano con ti, eroe! Hey! Ho finito i kit energetici! Non che mi servano, eh! Eeeeh, rip! Oh, è che è disconnettato? Wow! Epic! Attenzione al nuovo liberatore! That's pretty, Eben. Reconnection! So... No. Uh... There we go! There we go! Uh... I guess this is a method for farming XP, I don't know. I mean, you have, like, you can attack, but or else you'll be foolish. Hey, Lombax, sta distruggendo tutto ciò che capita a tiro! Per fortuna, siamo lontani, Guanita! Perchè... Siamo abbastanza lontani, vero? Perchè! Siamo in giro! Poi! Perchè! Chebench! Fifth! and then whenever you go to the like the bomb part to just me so this will be a lesson about the back of this Wow, sono ufficialmente impressionato Non c'è un bambino Non c'è un bambino Non c'è un bambino Ok, time to reset Oh, forza Qualcuno vuole uccidere quel piccolo ammasso di pelo Ok, aaaah Nice, you see Just to level up very, very easily And then I don't give a shit About other stuff, so I don't shoot the screen, but Rogat seems to be faster Questa creatura è decisamente troppo pericolosa per essere lasciata libera Deve essere distrutta Oh, forza Oh, forza Oh, forza Oh, forza It's like this is going to be reset time perla Oh, forza Yup Grazie a tutti. 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 Oh... Ok... 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 Grazie a tutti. 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 Questo ragazzo dovrebbe sponsorizzare delle scarpe e dei macchinari per fare ginnastica e un barbecue. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra che questo fosse l'ultimo. Devo ammettere, sono impressionata. Non pensavo che avrei mai visto il giorno... Vazzo, non è neanche vicino alla fine. Sto solo giocando con la sua mente... Grazie a tutti. La tecnologia è straordinaria, vero? Possiamo teletrasportare via le munizioni dall'arma di Ratchet prima che possa sparare. O ancora più divertente, possiamo sostituirle con della salsa. Signore e signore e signori, Ratchet si lancia in un'avventura ghiacciata. Il succo è freddo, il succo è freddo e la gelatina è mole. Il succo è freddo, il succo è freddo. Il succo è freddo, il succo è freddo. Il succo è freddo, il succo è freddo. Il succo è freddo, è freddo. Wait, what? 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 I didn't get... I feel kinda robbed. Yeah, I definitely feel robbed. I don't know. 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 Grazie a tutti. 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 Heroe, hai battuto il record di Ace Arglide per punti totali in carriera. Anyway... Interesting camera. Yeah, whatever, I'm farming more. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. F*****g Turret globe ...dumumum... ...dumumum... ...dumumumum... ...correcto descripcion... ...dumumumum... ...atresa il nome non è corretto... ...che uno sciame di delici... ...raggiunga l'area di meta! ... 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 Ragazzi, è il momento del calcio a sciave! Per vincere, Ratchet deve evitare in qualunque modo che uno sciave di nemici raggiunga l'area di meta! Corri, Ratchet, corri! Un'informazione è su Ratchet. Gli dai un dito e lui si prende il braccio, anzi tutto il corpo. Sarai meglio a credermi, buonità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Non muovetevi di un millimetro, ragazzi! È il momento del calcio a sciame! Per vincere, Ratchet deve evitare in qualunque modo che uno sciame di nemici raggiunga l'area di meta! Avete mai visto il diavolo in una notte di luna piena? Io sì, ed è fantastico! Non si vende la mistecca a malacottura! Non si vende la mistecca a malacottura! Non si vende la miste! non muovetevi di un millimetro ragazzi è il momento del calcio a sciame per vincere Recep deve evitare in qualche modo che uno sciame di nemici raggiunga l'area di meta non muovetevi, non muovetevi